Buon pomeriggio a tutti cari amici, oggi è domenica 13 gennaio ne approfitto per un momento di tempo per farvi il video delle cose che ho comprato ieri da Calzedonia perché sono passata a comprare un regalo in un posto lì vicino e poi c'era anche Calzedonia allora vi mostro subito, intanto qui c'è lo scontrino che ho speso 23 ore e 10 allora, parto subito ecco, innanzitutto l'ottima cosa più bella la faccio vedere all'ultimo allora, ormai ci sono gli sconti, si sa, e da Calzedonia i calzini vengono una favola con gli sconti sono buoni di qualità e costano niente, veramente allora, c'era l'offerta in questi calzini ma in tutti i calzini, uomo, donna, bambino questi qua, a posto di... non so quanto, ma non c'è qua la targhetta comunque mi sono costati, mi pare, 2 euro 2 euro e 20 questi qua, con questa fantasia, con le stelle, molto carini e sono, credo, in caldo cotone poi ne ho presi solo un paio di questi qua, con le stelle ne ho presi due, poi li ho posati ho voluto prendere questo paio che è però in pile e questo mi è venuto a costare 3,95 no, forse sto sbagliando comunque, sulle 2 euro quello forse 1 euro e qualcosa invece questo sulle 2 euro perché in origine costava 5 euro costava 5,95 è stato lo sconto e mi è venuto a costare 2,20 euro questo qua è proprio in pile, è bello spesso veramente, credo che tiene caldi i piedi poi ho preso un paio di collant di questi qua coprenti, 50 denari la M e sono costati con lo sconto del 50% 3,45 credo che riscaldano meno me lo auguro il pezzo forte sono un paio di leggings perché le leggings conviene comprarle le calzadone con gli scontri perché a prezzo pieno proprio sono esagerati secondo me allora ho preso questo paio di leggings misura M perché volevo la L ma era grandissima e queste qua hanno un tessuto quasi come dire in vinile luccico, no luccicoso tipo in vinile sembra per dire un sacco della spazzatura che non è e dentro sono proprio pile puro tengono caldissimo ha detto la commessa ma comunque toccandoli una persona lo può percepire sono caldissimi c'erano il marrone però mi piacevano tanto quel tipo di marrone mi piaceva però poi non ho un marrone da abbinare perché il marrone è un colore difficile e molto non si usa negli ultimi tempi non lo vedo anzi forse quest'anno si l'anno scorso per niente comunque invece di prenderli sempre i neri che ho tanti leggings neri li ho voluto prendere di questa di questa gradazione di blu allora questi mi sono venuti a costare sulle 14 euro che aspettate in origine costava 29,95 e e poi mi sono venuta a costare sulle 15 non 14 va bene ma ci sta perché sono dei leggings ottimi di qualità sono proprio termici perché poi avevo tocchiato un altro paio di leggings che però erano maculati col fondo rosso bellissimi me li volevo prendere li avevo già a mano poi toccandoli parlando con la commessa ci ho chiesto ma sono in pile no questi non sono in pile sono cotone ah e allora non tengono caldo sono dice invernali però se cerchi qualche cosa in pile non è questa veramente il pile è tutt'altra cosa infatti erano autunnali bellissima una bellissima fantasia ma secondo me sentivo freddo perciò ho lasciato perdere e niente questi sono stati i miei acquisti da da calzedonia va bene per adesso vi saluto vi ringrazio di aver visto il video e ci rivediamo presto ciao ciao buona domenica ciao ciao